Buonasera, buonasera, mi chiamo Domenico Farina, di anni 68, in pensione da giugno 2010, promenso dal settore bancario con incarichi diversi. Anzi, mi chiedo, prima di continuare, se vedete la slide, piccola sintesi non esaustiva, lo chiedo a Dino se si libera il suo microfono e se ascolta la mia voce. Sì, sì, tutto ok. Perfetto, ok. Quindi proseguo, promenendo dal settore bancario, con incarichi diversi direttivi, tra cui anche titolari di filiali e agenzie bancarie. Questo webinar è stato richiesto da alcuni utenti dei canali Telegram, sia il canale Telegram Central Bank e Renu, in particolare l'amica Patrizia, che saluto, vedo che è presente. Allora, il taglio di questo webinar è decisamente molto, ma molto ridotto, perché chiaramente adesso lo spiego nella slide successiva, la motivazione. Allora, verificazione e organizzazione del lavoro. Perché? Perché ricordo che gli argomenti sono contenuti in sei webinars che trovate nei rispettivi canali Telegram, Central Bank e Renu, nonché su YouTube, perché sono pubblici. Significo che in aggiunta ai quattro fogli Excel, per confezionare un piano di trading macroeconomico di lungo periodo, e questi quattro fogli sono stati un dono del dottor Dax e Francesco Parigi. Quindi non sono opera mia i quattro fogli. Chiaramente è opera mia quello di averli, diciamo così, aggiornati, perché quando mi sono stati consegnati erano fermi a febbraio 2019 e io li ho perfezionati ad agosto 2019. No, quindi ho dovuto fare un bel lavoro che poi ho spiegato nelle slide. Ho all'occorrenza adesso predisposto, manco se fossero pochi, quattro fogli Excel, altri due fogli Excel. Questa è la novità per voi. Aiutato nella parte tecnica dall'amico Giorgio Soffitti, che ringrazio. Ed oggi l'argomento fa riferimento proprio all'utilizzo di questi due fogli Excel. Chiaramente l'idea di questi due altri fogli Excel trae origine dallo studio dei due ebook del dottor Dario Tax e Francesco Parigi. Quindi non mi sono inventato nulla di nuovo, ma ho solo elaborato un metodo per facilitarmi il compito. E se ci sono contributi migliorativi da parte degli iscritti ai canali, sono ben accettati. Perché nulla è perfetto e tutto è perfettibile. Io ricordo benissimo, adesso più che altro per sdrammatizzare, per dire una piccola episodio. Quando tanti tanti anni fa facevo il sostituto del titolare, ero vice direttore, e c'era il mio titolare che un giorno viene vicino a me fa Domenico, ma c'è una cosa che non riesco proprio a fare, una cosa complicata, difficile. Insomma, non so come farla. Però ho avuto un'idea. Sapete qual è la risposta che lui mi diede? E qual è questa tua idea? Questo lavoro fallo tu. Quindi per dire, lui aveva avuto l'idea, dice questo lavoro fallo tu. E quindi sono sempre stato portato a ricercare delle soluzioni, a dei problemi, tra virgolette. E quindi penso di partire con una soluzione che non è perfetta, ma è perfettibile. Andiamo avanti. Sempre non il solito disclaimer risk, che leggerò velocemente. Il trading online è un'attività speculativa ad alto rischio, in cui la possibilità di una perdita parziale o totale del proprio investimento è reale. Di conseguenza, non è adatta a tutti i tipi di investitori. Prima di decidere di effettuare investimenti in valute reali, è necessario comprendere a fondo i rischi connessi a tale attività. Considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, i propri livelli di esperienza e l'attitudine al rischio, oltre alla propria situazione reddituale e patrimoniale. Tutte le informazioni e le pubblicazioni dello scrivente, nonché dell'autore del segmento webinar, hanno carattere puramente informativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori del segmento testo informativo e webinar non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai lettori e ascoltatori e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Allora, il primo foglio è questo qua, poi lo prendiamo dal reale, perché l'esercizio che voglio fare è proprio questo qua, è l'organizzazione. Passiamo adesso al foglio Excel dove si parla dell'organizzazione del lavoro. Io ho una cartellina che mi sono fatto e fatto alla organizzazione. Aspettate che dopo faccio Excel e passo, diciamo così, sullo schermo. Vediamo un po'. Allora. Sì. Ok. Adesso lo rimpicciolisco un po'. Visualizza. Vediamo qua Zoom. Lo facciamo un poco più piccolino. Questo è troppo grande. Questo è troppo grande. Eccolo qua. Facciamo il 75%. Ok. Passiamo di qua. Allora. Qual è stata, diciamo così, la mia idea di fare questo foglio Excel con i dati macroeconomici? Allora, l'idea è stata questa qua. Quella di inserire in un foglio Excel i dati macroeconomici sull'euro, su GPP, sul dollaro, sull'Oien, sul canadese e via di seguo. Le otto valute. però mi sono reso conto che questo foglio Excel io già l'ho sfruttato, questo foglio e quindi ne devo prendere un altro. Scusate un attimo perché capita di potersi sbagliare e quindi perdonatemi, vediamo dove l'ho messo. abbiate un po' di pazienza, anzi magari prima di parlare di questo foglio perché questo mi porta questi dati qua, quindi era questo foglio qua che avevo e prendiamo questo qua. ok, ecco qua. Lo stesso foglio di prima l'ho compilato in una maniera diversa perché quello era un foglio del primo esperimento, quindi era in corso di lavorazione, alla fine poi è stato tirato questo foglio. Andiamo su Zoom, 75%, ok, perfetto. Allora, riuscite a vedere diciamo così le valute sulla sinistra euro, dollaro, canadese, yen, franco svizzero, eccetera, eccetera. Mi dai una conferma di no? Sì, sì, tutto ok. Perfetto. Allora, come vedete questo foglio in ogni riga porta innanzitutto i dati macroeconomici che ci interessano. quindi per l'euro c'è il tasso di disoccupazione, la variazione dei tassi di interesse, il prodotto interno lordo, il tasso di disoccupazione e la variazione dell'occupazione, l'indice di prezzo al consumo annuale, le vendite al dettaglio e la rilevazione del sentimento di fiducia sull'economia. Adesso voi vedete dei dati scritti e certamente vi domanderete ma dove li vado a prendere questi dati? quindi sono delle colonne, c'è uno storico che porta un massimo e un minimo, ci sono dati a cinque anni con un massimo e un minimo, ci sono dati a due anni con un massimo e un minimo e un dato relativo con un massimo e un minimo che sono quelli a un anno. Va bene? Io cosa ho fatto? Per ogni tipo di divisa, quindi di valuta, ho messo il link dove prendere le notizie. quindi chiaramente l'euro c'è questo link, per il dollaro c'è un altro e via di seguito per ogni tipo di operatività. Facciamo un esempio, adesso andiamo per esempio all'indice sull'euro della rilevazione del dato zero del sentimento dell'economia. Chi avrà questo foglio? Cliccando qua sopra, adesso io clicco, c'è la manina quindi si apre il link si apre il link e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Adesso faccio stop share e passo sull'altro sull'altro diciamo così monitor. Chiedo all'amico se in sostanza se toglie la Wolfix perché non potrebbe cioè se tutti quanti vedono il suo grave vabbè se non arrivano la Wolfix. Allora vedete che sono andato proprio sulla zona euro perché sono un rito dell'euro c'è il sentimento di fiducia dello web ok? Innanzitutto c'è una spiegazione di che cos'è questo a cosa sente no? Ci dice da chi è elaborato che cosa determina e quindi chiaramente dice si tratta di un indicatore chiave delle condizioni commerciali il dato viene ottenuto da un'indagine con tutto vabbè senza che mi sto a fare tutta la spiegazione perché la potete leggere dal link l'ultimo dato è del 13 di agosto va bene? E come vedete il dato del 13 agosto è rosso perché è negativo avevano già un precedente di 20.3 prevedevano un dato negativo di 21.7 e risultato 43.7 secondo voi che cosa può essere accaduto voglio dire se un dato è negativo è un dato negativo di questo tipo ha fatto sì che fosse ancora scioltato più più forte diciamo così l'euro io adesso sto semplificando perché la la strategia prevede in sostanza delle cose più combinate che sono spiegate negli altri webinar però è già qualcosa io che cosa devo fare? Io non devo fare altro che questo io so come ho fatto a tracciare i massimi minimi cliccare sul massimo e vedete che vi escono degli histogrammi io ho messo degli histogrammi e vi fanno vedere il picco più alto che è 73.3 ed è quello che io sono andato a scrivere nel massimo storico segnatevi questi numeri così quando ve li faccio vedere nel grafico Excel troverete questo numero che significa che è stato un grado di fiducia molto molto positivo di 73.3 e come storico il più basso è stato questo qua ed è stato il 63.70 ho rilevato io dal da questo sistema qua quando ho messo il puntatore si mette il puntatore e gli fa vedere il dato più più negativo eccolo qua vedete leggete 63.7 è dato più basso come storico va bene allora uno se li segna segna il massimo e il minimo storico poi va a 5 anni quindi questi dati già ce li avete segnati a 5 anni uno rileva un minimo a 5 anni che è questo qua meno 43.6 e rileva un massimo che è 64.8 come massimo a 5 anni poi si va sui 2 anni va a prendere un minimo 43.6 dato negativo a 2 anni poi va a prendere il massimo va sull'istogramma quindi vi sto facendo vedere i dati come li ho presi poi si va su quello annuale che scriviamo come dato negativo e questo dato negativo come vedete è quello del 13 di agosto 43.6 ok che è un dato negativo quindi se ci fa legato nella parte bassa la prossima notizia sullo stesso dato macroeconomico ci sarà il 17 di settembre alle ore 11 allora adesso non c'è ancora un dato di previsione però parte già da un punto negativo di 43.6 che guardate che 43.6 rappresenta se andiamo a vedere adesso il traffico che stavamo guardando prima faccio share andiamo sul sul grafico vedete adesso il grafico Dino vedi il grafico Excel sì sì ok vedete che il tuo relativo è meno 43.6 come minimo quindi siamo su un minimo relativo a un anno su un minimo diciamo così a due anni un minimo assoluto di due anni e siamo su un minimo a cinque anni quindi veramente siamo su un livello da monitorare importante questo livello qua è importante perché se la previsione di questo dato è ancora peggiore peggiore vorrà dire che in sostanza ancora l'euro diciamo così dal punto di vista viene 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 c'è una notizia diciamo così poco confortante allora perché ho detto ho parlato di battaglia navale per un semplice motivo dato che le coppie di valuta nel forex parliamo proprio di coppie sono rapporti no rapporti quindi noi abbiamo l'euro e l'euro si combina con altre valute quindi sarebbero altre sette valute quindi si le principali chiaramente si confronta con il dollaro con con il canadese con New Zealand con il giapponese e via di seguito secondo voi a cosa serve questo dato singolarmente che io ho un dato sull'euro negativo mi serve a qualcosa se lo esamino proprio nudo e crudo singolarmente qualcuno mi può rispondere per cortesia serve a qualcosa ricordate vi ho anticipato già la risposta vi ho parlato di battaglia navale quindi secondo voi da solo serve oppure per essere prego no non serve da solo che cosa ci interessa a noi che cosa dovremmo faccio un esempio se noi andiamo a shortare l'euro significa che dovremmo acquistare qualche altra cosa giusto o mi sbaglio ragazzi mi rispondetemi se io sta a significare che devo comprare qualche altra cosa in una giusto o no brava mi risponde la nostra cara patrizia significa che io devo incrociare questo dato con un dato positivo che calendario economico mi deve offrire qualsiasi dato positivo che possa darmi una risposta in questi termini questo vi spiego un poco perché nei webinar precedenti diciamo si è spiegato tutto poi dopo alla fine magari vogliono adesso stiamo entrando più nel vivo e nel dettaglio di quello che va fatto di quello che è importante fare quindi noi dobbiamo andare a ricercare nel calendario economico quelle che possono essere le notizie successive al 17 di settembre con delle previsioni di carattere positivo se ci sono quindi cosa ho fatto cosa molto semplice adesso abbandono un attimo questo foglio quindi voi state vedendo adesso le slide oppure quelle dell'investing cosa state guardando adesso l'excel oppure l'investing vedete che l'excel cosa porta quel valore che vi ho detto prima positivo storico 73 30 negativo minimo storico 63 un massimo 64 vedete che 43 60 voglio dire si ripete si ripete diciamo così si ripete qui si ripete qui e si ripete qui quindi queste sono le cose che noi dobbiamo andare a ricercare in questo foglio quindi a parte il fatto che può essere utile quando andate a cliccare se vedete qualche errore o delle mancanze me lo segnalate direttamente o in privato a meco 51 oppure nel in caffèbus la forex perché io per evitare per evitare confusione nei tuoi canali central bank e royal new ho preferito mantenere la possibilità di poter scrivere solo io perché se no dopo alla fine io mi perdo invece così è come se io fossi una sorta di controllore almeno inizialmente poi man mano che i metodi vengono compresi allora chiaramente si può dire che ci saranno delle deleghe a delle persone che saranno in grado di farlo un po' come il lavoro che ho fatto in banca un vero dirigente un vero direttore non è quello che accende da su di sé tutto il lavoro perché da solo un direttore di banca non sarei riuscito a fare un bel resto di niente ma se si incominciano ad assegnare dei compiti a persone che sono in grado di poterlo svolgere ma non di controllare perché se delle persone si sentono controllate voglio dire non ci mettono l'impegno vabbè tanto poi se sbaglio c'è Domenico che mi corregge no devono sentirsi addosso la responsabilità del lavoro che fanno un po' quello che è accaduto a me quando io avendo non parlo adesso di cifre per non svelare determinate cose avendo nell'ambito della mia banca delle autonomie per deliberare dei fidi chiaramente al di sopra di me c'erano dirigenti a livello di direzione generale di aria con poteri più ampi più grandi dei miei però qualcuno voglio dire insomma avendo il coordinamento dei più filiali io ero direttore solo di una filiale qualcuno aveva il coordinamento dei più filiali non ce la faceva a seguire tutte le pratiche nell'ambito della sua autonomia quindi aveva scelto i suoi uomini e io ero uno di quelli dove dice Domenico guarda ti apri con la mia matricola e prendi tu la decisione al posto mio quindi figurava l'altro che decideva non ero io però ero io che mi prendeva la responsabilità personale nei confronti di chi mi aveva delegato quindi io voglio arrivare a fare questo procedere pian pianino cercare di fare una squadra per quello la slide dall'inizio si parla di team in modo che poi ognuno una volta carburato tanto abbiamo una vita davanti spero che il padriotene ci fa accampare voglio dire quindi il mercato poi non cresce mai sta sempre lì voglio dire non muore quindi non dobbiamo andare di fretta assolutamente e quindi le cose poi ci verranno molto facili vi volevo far vedere adesso che cosa ho fatto per poter poi arrivare alla battaglia navale vediamo un po' dove sta eccola qua la bozza della battaglia navale la vedete la battaglia navale qui il foglio un altro foglio lo vedete si 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 adesso anche questo foglio lo rimpiccioliamo un attimo vediamo un po' se si riesce devo togliere un attimo mi sentite sempre vero si ok andiamo su zoom lo mettiamo a 75 ok allora che cosa ho fatto una battaglia navale che tutti quanti conosciamo togliamo queste frecce che non mi servono più erano su l'annotet clear ok allora ho messo in alto euro poi ho messo gbp ho messo il dollaro ho messo lo yen ho messo il canadese ho messo l'audi ho messo il franco svizzero tutte le otto valute poi qui vedete scritto dato dato perché magari in uno stesso giorno o nei giorni a seguire magari per la stessa valuta ci possono stare più notizie più notizie allora questo è un un esempio è un esempio di una notizia sulla stellina che si incrocia con il dollaro vedete hanno diciamo così hanno incrocio nella battaglia navale la stellina che si incrocia con il dollaro però attenzione io la devo andare a mettere questa notizia solo se il dato di previsione della stellina si incrocia con quello del dollaro sono di segno opposto se no non mi serve fare questa cosa come se su una stessa giornata io possa avere più notizie su una stessa valuta se più notizie sulla stessa valuta già per il fatto stesso ci sono più notizie sulla stessa valuta chiaramente parlando di scontare anticipare un discorso ma chi magari fa le operazioni con gli ordini che io insomma sconsiglio perché ci sono gli slip peci le quote e tutto il resto ci sono più notizie su una stessa valuta è meglio stare alla larga perché non sappiamo quale avrà la dominante la notizia l'una sull'altra poi figuriamoci se già nelle previsioni si discostano l'uno dall'altro uno dà una previsione positiva uno dà una previsione negativa è meglio non fare nulla se ci troviamo con un unico dato o più dati che vanno nello stesso senso di previsione è una storia lo dobbiamo andare a incrociare con una notizia diciamo di disegno opposto chiaramente capirete che noi dobbiamo tenere presente di conoscere bene come si interpretano le notizie dal calendario economico perché la previsione dell'aumento del tasso di disoccupazione voglio dire che aumenta la disoccupazione che aumenta secondo voi è una notizia positiva o negativa mi rispondete per favore aumenta la disoccupazione per quel paese negativa negativa che aumenta invece se mi aumento l'occupazione è una notizia positiva positiva quindi non sempre gli incrementi delle varie tipologie di notizie vanno nel segno che uno si aspetta uno chiaramente presuppone che conosce il significato dei dati macroeconomici però siamo favoriti diciamo così da internet perché ci mettono i colori colore verde la notizia è positiva per la moneta oggetto della notizia se di colore rosso è negativa per quella moneta che cosa significa una cosa molto semplice l'ho spiegato già un'altra volta e l'ho spiegato anche adesso in modo che può far piacere un ripasso se l'analizia è positiva quindi sta a significare che quella valuta se sta al numeratore si compra ma si compra anche se sta al denominatore però che cosa succede? se io devo comprare una valuta che sta al denominatore io devo shortare l'operazione perché vendo la valuta che sta al numeratore e compro quella che sta al denominatore quindi devo incrociare un'eventuale notizia diciamo positiva su una valuta e la devo combinare con delle valute a seconda se sono posizionate al numeratore al denominatore mentre per l'euro e per lo yen è tutto più facile perché chiaramente l'euro sta sempre al numeratore ci sta sempre l'euro al numeratore quindi invece lo yen come sapete sta sempre al denominatore è più facile giocare con queste due divise è diverso invece il discorso per esempio con la con la con la con la sterlina perché la sterlina sta al numeratore su alcune coppie tipo dollaro yen perché yen sta sempre al denominatore franco svizzera australiano canadese new zealand però poi invece la sterlina sta al denominatore con l'euro il pacifico perché l'euro sta sempre al numeratore questo per dirvi come vanno interpretate le notizie vi tornate a questo foglio io che cosa ho scritto su questo foglio io ho fatto così ho scritto così ho messo questo quadro qua te lo sto spiegando poi ho detto ragazzi andate al foglio 2 e cosa ci trovate? ci trovate il calendario economico della settimana e andrò via la linea e riprendo il webinar adesso sono di nuovo in linea davvero? vedete? si 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 ora si vede tutto purtroppo ogni tanto capita speriamo che mi fa portare a termine bene nella giornata di oggi mi sta facendo delle bizze allora vedete ci sono delle notizie io ho messo quelle della settimana in modo che io devo andare a incrociare i dati voglio dire del dollaro statunitense del 12 di settembre però queste cose dobbiamo preparare una settimana prima dell'euro che notizia porta qui e qui il pallo di CP sarebbe in sostanza voi per vedere sono l'indice dei prezzi al consumo e sono previsti in diminuzione adesso vi spiego come interpretare questo segnale lo andiamo a vedere direttamente dal sito lo facciamo subito così evitiamo di perdere tempo un attimo solo allora scusate un attimo che adesso apro e vi faccio vedere come interpretare questa notizia vi faccio stop e share e andiamo su quest'altro monitor vedete il calendario economico di Forex Factory sono le 17.30 quindi qui dovete stare attenti perché dovete sempre settare l'ora l'ora la dovete mettere precisa con l'ora italiana l'ora locale italiana perché se no non vi risultano con esattezza gli orari in cui escono le notizie noi andiamo al 12 di settembre per curiosità visto che stavamo commentando di là il 12 ed era in effetti la notizia CP dollarosa del giorno 12 in rosso ed era alle 14.30 eccolo qua vedete è questo dato qua sto con il mouse sopra no per sapere il dato per chi non sa leggere e scrivere apre qua e vedete il dettaglio vedete nel dettaglio avete già un orientamento se il dato previsto è in crescita la notizia è positiva vedete qui precedente del 0.3 il 13 di agosto la previsione del 0.2 era in diminuzione ha fatto più 0.3 quindi un dato positivo e quindi in questo caso il dollaro si comprava e si andava però questa è una notizia che è uscita dopo però chiaramente con un dato di previsione al 0.2 era minore ecco perché nell'esercizio nei webinar fatti si spiegava e si dichiarava che si usciva prima del dato e della notizia perché per scontare questa notizia voglio dire bisognava considerare di vendere il dollaro ma non di comprarlo perché questo poi si è saputo dopo però attenzione anche in queste cose io vi dico di avere una certa prutenza io in qualche webinar dove ho trattato lo stesso Lenin ho calcolato dei differenziali dell'importanza dello scostamento della notizia da 0.3 passa a 0.2 siamo appena allo 0.10 voglio dire per cento di decremento voglio dire invece poi è diventato positivo questo qua mi dà già un'indicazione questo dato qua se in diminuzione il dato previsto voglio dire era negativo in precedenza questo qua è negativo perché il precedente è rotto 0.3 quello in sostanza previsto è negativo quindi negativo per il dollaro il dollaro da vendere con chi lo devo incrociare se sopra ho una notizia positiva che mi preavvisa una notizia positiva se ce l'ho voglio dire io ero sempre il dollaro ma devo andare a prendere un'altra valuta sempre sempre di attrettori quindi non c'era la possibilità di poter fare operazioni non ce ne sa c'è qui i tassi ma i tassi sono condizioni in sostanza non numerarie perché voi qui in sostanza ci sono alcune alcune soprattutto dove non appaiono le predizioni non lo posso prendere come punto di riferimento lo posso prendere come punto di riferimento questo qui il passo di rifinanziamento principale 0 a 0 voglio dire dovrei andare a prendere il mio foglio per vedere se questo dato qua fa parte del link delle notizie allora lo pigno di riferimento ma se questo dato non è in quel link ma è un altro dato non mi interessa allora fatto questo ritorniamo un'altra volta sul foglio excel stop share share screen vediamo qui quindi ci ho messo il calendario sul foglio 1 poi è specificato invece che nella parte del foglio il foglio questa è l'istruzione della combinazione del foglio quindi da calendario economico settimanale foglio 2 intuidiamo la notizia sulla valuta puntata antecedente e la incrociamo con un'altra valuta successiva e valutiamo secondo l'istruzione di cui foglio 3 e quindi dopo andiamo a vedere il foglio 3 il dato lo inseriamo nelle caselle corrispondente alla colonna verticale esempio dato 10.30 pil stellina lo incrociamo con euro la new del 12 settembre e dobro del 12 settembre con cpi usa in un esempio questo qua foglio 3 foglio 3 avete l'epilogo dell'istruzione della royal new per fare le tabelle avete la centrazione di royal new la raccolta di link e siti utili per poter operare in questa situazione e poi avete tutti i 6 webinar qua sotto quindi raccolti su questo foglio qua quindi se abbiamo il riepilogo dell'istruzione di royal new uno lo apre questo qua si dovrebbe aprire domenico dovresti digitare nella nella j prova nella j a digitare j j questo qua lo devo allargare perché devo fare come ho fatto con gli altri quindi con gli altri io ho fatto lo spazio e me lo ha cliccato eccolo qua per dire come fare lo devo ancora sistemare come vedete c'è ancora del lavoro da fare ritorniamo adesso di nuovo al foglio base quello lì dove ci sono tutte le notizie quindi questo qui serve per la royal new quindi per le notizie perché il foglio 1 vi ho detto dobbiamo incrociare i dati dove andiamo a prendere le notizie e le andiamo a prendere da quel foglio che vi ho fatto vedere prima adesso lo riprendiamo che state guardando adesso sta scritto organizzazione oppure altre cose organizzazione organizzazione grazie allora ok adesso andiamo adesso c'è il foglio di prima quando siamo partiti col foglio di prima esatto quindi vedete che abbiamo tutte le notizie e qui poi andate a cliccare e quindi andate a vedere per esempio l'indice di grandi produttori manufatturieri però questo foglio qua che è stato fatto è un foglio di dati che servono sia per la royal new e sia per la programmazione di quegli altri fogli che riguardano la central bank dove è stato spiegato se non sbaglio nel secondo webinar di foglie excel se avete delle difficoltà a trovare dei dati sapete come ho fatto io per trovare tutti questi link una cosa molto facile sono andato qua adesso vi faccio vedere faccio stop share share screen l'ultimo link di quel foglio che ho cliccato mi conduce qua una pagina che si chiama calentare economico la vedete adesso la calentare economico di investing lo vedete? si ok come faccio per trovare io io i link li ho messi ma tanto per darvi un aiuto a voi io se voglio sapere qualcosa io vado su filtri va bene e ci scrivo qua il nome dell'evento ipotiziano che voglio scrivere il il no il il quindi io scrivo qua il pil voglio sapere i prodotti interno lordo della zona euro allora io clicco sulla zona euro e mi dà il pil e c'è il pil però questo è il pil annuale e questo è quello giusto perché il dato che devo scrivere è quello annuale quindi io clicco qua sopra e c'è il dato annuale il dato annuale l'ultimo è stato il 6 di settembre adesso uno deve andare su foglie excel che vi ho fatto vedere prima e bisogna aggiornarlo per mettere questo dato allora uno deve fare un'altra volta se ne accorge i massimi e i minimi assoluti se non si sono cambiati non è così magari sarà solo da aggiornare se rompe un massimo o un minimo relativo un massimo o un minimo nei due anni e via di seguito quindi questo qua nel vedere qui c'è un grafico che vedo 1,2 ed è questo qua un dato riferito ai 5 anni andiamo nell'ultimo anno nell'ultimo anno secondo voi questo dato qua io come 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 dato nell'ultimo anno lo devo aggiornare o no su foglie excel per così la vostra informazione questo dato qua va aggiornato o non va aggiornato no non va aggiornato come domenico non si aggiornano non si aggiornano perché chiaramente voglio dire questo non è né un minimo a un anno né un massimo a un anno il massimo è rimasto tale e quale questo qui che era 2,2% e il minimo a un anno voglio dire andiamo a prendere l'istogramma più basso che era 1,1 vedete l'istogramma e questo è quello che in sostanza come andare a collaborare per mettere i dati quindi che cosa significa che cosa chiedo io come collaborazione se a me sfuggono oppure magari adesso capiterà che è venerdì mattina presto devo accompagnare mia moglie che prendo l'aereo e va in Bruggeria perché abbiamo la figlioccia che sta all'università fuori e fa medicina e la va a trovare e io la devo accompagnare a Cianpini o la devo andare a prendere mercoledì può capitare che non posso fare sempre queste cose uno può avere un impegno voglio dire insomma allora qualcuno lo fa a posto mio e me lo segnali Domenico c'è sto dato qua allora uno poi lo aggiorna insomma lo vedo se è da aggiornare ma qualcuno mi ha risposto ha detto questo è un dato da non aggiornare dal punto di vista proprio tecnico poi come fare la previsione e formulare il foglio dei dati Excel per quanto riguarda Longo e Short è quello l'abbiamo spiegato nel webinar precedente con dovizie di particolari perché lì ho proprio aperto i file e ve l'ho fatto vedere però questo è un foglio importante queste indicazioni che vi fanno capire come trovare le notizie se uno non riesce a parte praticamente quel foglio poi andrà direttamente lì e viene in telecode se il dato è quello che sta scritto facciamo un altro esempio ma per fare un altro esempio allora noi adesso chiudiamo questa andiamo sul calendario economico facciamo un altro filtri e ci mettiamo per esempio i tassi ecco questi sono i tassi però magari a me interessa sapere il tasso su un altro paese qui però mi dici i tassi prodotti qualcuno mi ha chiesto ah sì qualcuno mi ha chiesto ma come hai fatto a stabilire i tassi minimi e massimi nei cinque anni e tutto il resto e come ho fatto in sostanza io sono andato qua sul 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 paese allora io a zero tutto qua vado nel paese clicco Australia poi chiaramente questo mi dice vedi oggi domani questa settimana prossima settimana e come faccio poi io in sostanza qua vado indietro vado indietro ma adesso sto andando così vado indietro adesso faccio solo un anno tanto per darvi un'idea perché diciamo due anni ma c'è un lavoro dentro che voi non immaginate quindi facciamo dicembre 2015 fino all'11 settembre e parliamo dei tassi applica vediamo cosa esce fuori eccolo qua mi esce solo l'audi e mi esce con tutte diciamo così le indicazioni relative alle notizie su anche su altre indicazioni perché diciamo se non ho messo il filtro perché uno dei filtri da fare è anche qui vedete c'è qui inflazione futuro bilancio occupazione commettendo non non selezionando me li ha messi tutti poi posso mettere tre tori due tori quello che sarà abbiamo preso Australia però il calendario economico 2015 facciamo applica e questo mi dirà fuori gli eventi e quindi andando indietro fino a portarci diciamo così 25 video vedete come ci sono tutte le indicazioni tutti i dati che uno vuole sapere lo sapevate che con questo criterio si poteva guardare tutto no e quindi questo è un sistema per andare a fare questo sistema qua di andare a vedere non è che nell'ebook nell'ebook ci ha spiegato tutto ci ha detto i link io ringrazio tantissimo però io ho dovuto mettere il mio impegno perché al momento in cui poi dovevo andare a cercare queste cose ho detto ma dove le vado a prendere e ci ho sbattuto un po' la testa affinché che poi io sono come diciamo sono un po' testato sono un po' diciamo così duro di testa nel senso che le cose insomma non è che le capisco subito devi toccare con mano devo riscontrare devo vedere insomma per rendermi conto per andare fino in fondo perché se ci scrivo domani questa settimana prossima settimana prossima settimana eccolo qua martedì 17 settembre c'è il verbale la riunione di politica ma non è raro sull'audi quindi uno clicca qui e si apre diciamo così il dato dove ti dice diciamo così le varie informazioni future di quello che dici quello che c'è quello che non c'è non c'è ancora niente perché è molto lontano no? ancora non è aggiornato questo dato però queste sono le cose che noi dovremmo diciamo così andare a a verificare a controllare non appena escono i dati c'è anche la possibilità qua se lo sbaglio di avere degli alert perché l'ho visto da una parte c'è la possibilità di ricevere degli alert uno si registra e ti dà gli alert dal punto di vista sembra che ho visto anche questa possibilità aggiungere il calendario dall'avviso che potete vedere tutte queste cose io benigno scusa non mi carano le notizie non ufficiali invece dove si prendono? le notizie non ufficiali vanno prese un po' con le molle ma diciamo sono insider trading dovresti stare negli uffici dove vengono elaborate queste cose e cercare è un po' complicato di fare notizie non ufficiali poi non ufficiali magari leggendo dalla stampa la stampa qualificata però come sempre sempre con le pinze la prendono con le pinze e ti vogliono dire qualcosa che magari vero non è perché è tutto è tutto relativo io direi invece invece direi di esaminare bene queste informazioni e vi dico come come fare dal punto di vista diciamo così adesso vi faccio vedere vorrei ritornare al questo foglio qua possiamo andiamo qua un attimo Australia ecco andate sulla Reserve Bank of Australia cliccate e quindi entrate nel sito della Reserve Bank of Australia questo qua si è scritto tutto in inglese per vederlo in italiano io vi consiglio di fare così io prendo il link per potervi aiutare faccio copia vediamo un po' se me lo fa copia e vado su Google ho qua Google nuovo allora metto qui il link incolla e vediamo quello che esce fuori ecco qua qui è già tradotto in italiano vedete ci ho messo niente quindi quando vi aprite vedete che sta in inglese ecc potete avere difficoltà alla traduzione ma questo vale per tutto lo vedete qui allora qui andate a vedere le dichiarazioni sulla politica monetaria e vi rendete conto diciamo così di quelle che sono diciamo gli ultimi minuti 6 agosto e ci sono tutte quelle che può essere le notizie le decisioni di quelle che può essere ecco qua la decisione questo ci consiglio ha deciso di lasciare in variato il passo al 1% però poi qui nel centro vi rendete conto quanto è che loro andranno a fare delle manovre seguendo per esempio i consumi no l'inflazione complessiva dovrebbe essere entrambe leggermente superiore al 2% nel 2021 quindi disegnate questo appunto cosa che io ho fatto e dico questi teranno sotto monitoraggio l'inflazione ed è un po' per tutti i paesi voglio dire perché il grado di inflazione quando ne abbiamo parlato voglio dire insomma cioè se in una società in un mercato in un paese il prodotto interno non cresce c'è la disoccupazione quindi l'occupazione non ci sta chiaramente una delle manovre che deve fare la banca centrale per rilanciare i consumi per rilanciare l'economia chiaramente deve abbassare i tassi se abbassi i tassi è più facile l'accesso a credito e si possa rilanciare i consumi però tutto è relativo perché se si rilanciano troppi i consumi per la legge della domanda dell'offerta se andiamo a fare la spesa e l'offerta di motere prime di merci di beni voglio dire è ben superiore alla richiesta chiaramente i prezzi aumentano e tutto va in un circuito vizioso che genera l'inflazione il processo inflattivo voglio dire va controllato non può andare diciamo così non può correre non può rimanere a biglia sciolta perché se aumenta l'inflazione gli stipendi devono aumentare se no voglio dire ci sono dei scendi familiari quelli che in sostanza non hanno lo stipendio legato diciamo così una volta quando io sono entrato in banca e parlo degli anni gli anni 70 io in effetto sono stato super fortunato perché all'epoca lo stipendio dei bancari era legato alla scala mobile quindi al tasso di inflazione aumentava l'inflazione ci aumentava lo stipendio aumentava l'inflazione ci aumentava lo stipendio proprio legato proprio poi un bel giorno e penso sia stata una manovra giusta anche se in sostanza gli stipendi non sono più saliti perché erano abbastanza importanti e soddisfacenti ci fu diciamo così un movimento sindacale mi ricordo un comizio di lama negli anni precedenti e furono sganciati l'incremento dei salari alla scala mobile perché questo generava più costi per il paese ecco perché poi dopo alla fine per poter ridurre l'inflazione quindi bisogna diciamo così ridurre la spesa che cosa bisogna fare e l'incontrario io lo sto prendendo semplicisticamente così solo sintetico aumentare i tassi l'autorosa aumentare i tassi chiaramente è più difficile l'accesso a credito perché costa e la spesa non viene alimentata andate a leggere questi verbali andate magari ci navigate un po' dentro andate a vedere diciamo così quelle che sono la sintesi della politica no? e rendete conto che cosa è accaduto ho fatto nel passato un webinar che era denominato come gli eventi storici nel tempo si ripetono e sono partito addirittura dagli accordi di Burton Wood per tanto per dare un esempio però questo dice leggere una relazione di una banca centrale più o meno voglio dire le stesse considerazioni le andrete a riscontrare in un'altra banca centrale perché gli argomenti quelli sono quindi questo è quello che ci dice questo è l'ultima era solo per farvi vedere quando io ho preparato delle considerazioni sulle previsioni sono andato a vedermi diciamo così nella banca qual era diciamo così l'orientamento della banca australiana lo stesso l'ho fatto per New Zealand eccetera eccetera detto questo ragazzi io vorrei chiudere il webinar quindi perché non lo voglio rendere molto faticoso e oneroso per tutti allora qua mettiamo sì ecco quindi qua abbiamo parlato adesso passiamo un attimo nuovamente alla slide che avevo lasciato organizzazione questo è il foglio che vi ho fatto vedere andiamo avanti questa era la battaglia navale no? perché la battaglia navale? penso che sia stata chiara la battaglia navale è uno scherzo però alla fine di questo si tratta che vi pare come sintesi di la battaglia navale per le notizie da anticipare se è una cosa sensata è una cosa sbagliata ma Domenico scusa sì allora tu hai detto che qua metti il dato diciamo negativo positivo no? però questo dato lo metti però prima di metterlo lo confronti perché qui dici calendario economico ha traiettori da confrontare con i massimi e minimi assoluti ma i massimi e minimi assoluti sono quelli precedenti esatto però devi fare tu una valutazione prima di mettere un dato certo io nel webinar fatto prima ti ringrazio e sei molto diciamo così gentile nel fare questa domanda perché scioglie dei dubbi non tutte le notizie vanno trattate se vi ricordate nel webinar sta scritto mettete in relazione i massimi e minimi assoluti quindi assoluti a cinque anni a due anni ed è stato anche detto che più sono diciamo così vicini a questi dati migliore è il dato se il dato voglio dire sta si dice non cade e non si alza neppure per dire sta giusto in mezzo non è un dato significativo voglio dire lo lascio perdere cioè noi se dobbiamo gli investitori gli investitori i capitalisti i fondi comuni di investimento voglio dire le grandi banche devono investire vanno a guardare i casi estremi i casi estremi dobbiamo andare a guardare perché quelli sono importanti perché noi dobbiamo andare a fare un thread anticipando la notizia però attenzione abbiamo anche spiegato che bisogna filtrarla con l'analisi tecnica e lì abbiamo spiegato in precedenza bisogna vedere se ci sono state delle aree congestive nel senso che se c'è la congestione nei massimi o nei minimi a seconda se il prezzo voglio dire deve tenerli per comprato hanno iperventuto abbiamo parlato anche di divergenze che stanno facendo gli investitori vuol dire che stanno aspettando ma se invece dobbiamo anche andare a vedere i dati precedenti su quella moneta come hanno risposto voglio dire se il dato precedente voglio dire era negativo e quindi hanno continuato a scioltare quindi andando nella direzione ed è la stessa direzione che prevede la notizia futura siamo in ritardo siamo in ritardo invece se hanno scioltato va bene non continuano a scioltare e vanno in una fase di congestione quindi una fase di stallo noi ci dobbiamo domandare perché non continuano a vendere perché probabilmente la notizia in aspettativa futura parliamo di una settimana più o meno perché i dati non ce li abbiamo prima magari ce li avessimo dieci giorni prima non lo so andiamo a vedere se si incrociano per un long nel senso che la valuta che dobbiamo trattare faccio un esempio è così a caso abbiamo una notizia sul dollaro positivo e una notizia negativa sullo yen in precedenza la notizia era negativa sul dollar quindi il dollaro si scioltava a un certo punto hanno scioltato e si è esaurita incominciano a stare fermi noi andiamo a guardare ma perché stanno fermi questi quindi su un grafico settimanale perché parliamo dei dati di una settimana settimanale non un grafico giornaliero stiamo guardando i dati settimanali sono i prezzi diciamo sono in un'area congestiva in basso perché stiamo parlando che si scioltava prima e non continuano a scendere quindi fanno su e giù in una si forma un rettangolo chiaramente siamo più favoriti nell'andare long non so se sono stato chiaro Patrizia chiarissimo Domenico ok avete altre domande da fare? perché io così qui ho finito la battaglia navale e arrivo alle conclusioni e ai saluti cerchiamo qui se c'è qualcuno che ha da chiedere qualche spiegazione che intende collaborare e non ha compreso qualcosa relativo a questi due file in modo che rimane memoria nel canale la metto in tutti e due canali sia nella central bank che nella Royal New direi che era chiaro prima però un ripasso non era male comunque dai tuoi discorsi poi si sviscera un po' di più il tema sì poi cresceremo piano piano voglio dire noi insomma allora io avevo ce l'ho tutto un amico che di cognome fa imparato imparato è nato imparato perché si chiama imparato noi non siamo nati imparati per dire no? non voglio scherzare quindi la conoscenza è qualche cosa che si costruisce mattone su mattone cioè noi stiamo diciamo così mettendo un seme nel terreno e cerchiamo di coltivarlo senza avere fretta perché se andiamo di fretta sbagliamo sbagliamo noi ci dobbiamo domenica abbiamo visto il gattino là sotto per cui va bene non ho capito scusami il gattino nella fotografia nella slide nella prima slide l'abbiamo visto esatto 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 va bene allora io vi ringrazio grazie a te domenica ringrazio patrizia per gli interventi anche gli altri amici che sono intervenuti quindi hanno dato l'opportunità di fare questa chiaretta io stoppo la registrazione e vi saluto di nuovo buon proseguimento di serata grazie a te domenica